Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, è il video quello delle prove di formazione voi mi direte ma allora perché c'è la schermata di Pro Evolution Soccer? semplicemente perché così faccio un video con una schermata in cui vi posso far vedere materialmente quello che secondo me accadrà domani sera e le ultime notizie in base alle formazioni così abbiamo la schermata, potete dare un'occhiata a quello che, cioè potete rendere visibile diciamo viene reso visibile quello che in realtà vi voglio dire insomma e dunque vabbè chiaramente questo è lo schema, lo schema assolutamente non cambia credo che più o meno sarà la stessa formazione di Genova questo è un cambio che secondo me ci sarà dentro Matuidi fuori Rabiot, a sinistra confermato Danilo e attenzione secondo me la differenza sostanziale di questa partita sarà questa qui Buffon che supererà il record di Maldini, quadrato a destra, De Ligt, Bonucci centrali e Guayaquili tocca Danilo a sinistra Matuidi, Pjanic, Bentancur a centrocampo, Bernardeschi, Di Bala e Ronaldo in attacco Di Bala messo prima punta con Dagrash Costa ovviamente pronto a entrare al posto di Bernardeschi qui a partita in corso così come Ramsey molto probabilmente verrà cambiato al posto di Pjanic, c'è Bentancur centrale ma questi sono cambi da partita in corso come ho detto prima questa è la formazione iniziale secondo me e molto probabilmente sarà così quindi Torino ovviamente che non giocherà con tutti quei giocatori lì che vedete ma penso che lo schema sarà molto simile a quello che vedrete quindi Torino penso che giocherà con un 3-4-1-2 veramente nel senso che qua c'è Edera come attaccante ma poi alla fine sappiamo benissimo che Edera è più un centrocampista aggiunto in attacco e credo che giocherà ancora a Verdi proprio per avere maggior copertura il Torino cercherà di fare più copertura possibile questa come ho detto è la Juve questo sarà il derby della Mole domani ovviamente aspettatevi il post partita a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale ciao a tutti